Assessori regionali, rapporti familiari e di reciproca disponibilità con Paolo Arata, l'ex deputato di Forza Italia, oggi consulente della Lega di Matteo Salvini, arrestato nello scandalo dell'eolico, accusato di corruzione nel tentativo di spingere i propri affari, che secondo l'accusa lo vedono socio di Vitori Castri, già in carcere, considerato a sua volta socio occulto del boss superlatitante Matteo Messina Denaro. Ora, dopo che le carte dell'inchiesta hanno fatto emergere l'esistenza di telefonate fra Arata e alcuni assessori regionali, la Commissione regionale antimafia, guidata da Claudio Fava, ha deciso di convocare tutti i componenti della Giunta Musumeci, che sono citati negli atti, per sentirli in audizione. Martedì sarà la volta di Alberto Piero Bon, l'assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità. Mercoledì toccherà il titolare dell'assessorato alle attività produttive Mimmo Turano. Giovedì in fine, la Commissione dell'Ars ascolterà l'assessore al territorio, Toto Cordaro. È prevista anche un'audizione del presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micichè, che stando alle carte avrebbe combinato un incontro fra Paola Arata e il dirigente generale del Dipartimento ai Rifiuti, Salvatore Cocina. La data in cui il presidente dell'Ars sarà ascoltato dalla Commissione antimafia, però, è ancora da definire. Piero Bon, anche con un post su Facebook, si giustifica dicendo che quando parlava con Arata, questi per lui era una persona stimata e insospettabile, ma il direttore del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, Salvatore Cocina, era diventato un ostacolo per i suoi affari e quelli di Vito Nicastri. E allora Arata ricorreva nuovamente al presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micichè. E questo è il nuovo capitolo delle indagini sul patto sporco fra Arata e Nicastri, il re del vento vicino alla mafia. Nell'informativa che la Direzione Investigativa Antimafia di Trapani ha consegnato alla Procura di Palermo, viene ricostruito il tentativo di Micichè di coinvolgere l'assessore Girolamo Turano nello sviluppo dei progetti della Solgeste SRL. Si tratta di una delle aziende del duo Arata-Nicastri. La sera del 6 luglio del 2018 squilla il telefono di Arata, infettato con il virus Troian, che lo ha reso un microfono per gli investigatori. Dall'altro capo della Cornetta c'è Alberto Dell'Utri, fratello dell'ex senatore Marcello, condannato per mafia. Tra un complimento e l'altro per l'imminente scarcerazione del fratello, Dell'Utri dice a Micichè che Arata, vecchio parlamentare di Forza Italia, ha bisogno di parlargli. Tre giorni dopo Paolo Arata invia un messaggio a Micichè. Buongiorno, giovedì sono a Palermo, ci possiamo incontrare. Ho urgenza di aggiornarti. Grazie, Paolo Arata. Mezz'ora dopo Micichè chiama Arata e fissano un incontro per il 12 luglio a Lars. Detto fatto, Paolo Arata e il figlio Francesco giungono a Palazzo dei Normanni. Micichè ritarda. Paolo Arata deve andare via, resta soltanto il figlio che è terminato l'incontro. Fa il resoconto al padre. Mi ha detto che mi fisso un appuntamento con uno che bisogna andare a parlare. E poi anche tu dovresti andare a parlare con un'altra persona che poi te lo spiego più tardi, così. Inzerata è lo stesso Micichè a svelare, chiamando Paolo Arata, il nome di una delle due persone da incontrare. Mimmo Turano, assessore regionale alle attività produttive. Ancora una volta il 13 luglio è Arata figlio ad andare a Lars per incontrare Turano e Micichè. Rientrati dalle ferie a settembre, tocca a Paolo Arata fare visita a Turano. Prima dell'appuntamento, Arata recepisce i suggerimenti di Maglio Nicastri, figlio di Vito. Devi forzare sul fatto che Nicastri non c'è. Non c'è più. Lo sai, non te lo devo dire io. Nicastri è stato arrestato e ci sono degli omissis. Poi Arata spiega che Turano è già stato avvisato della presenza occulta di Vito Nicastri dietro i progetti degli impianti di biometano. Chi lo ha informato? Gianfranco Micichè che era a conoscenza delle cointeressenze di Vito Nicastri nella sol gesta. Micichè, aggiunge Arata, non si è lasciato impressionare dall'aurea di mafiosità che avvolge Vito Nicastri. Gianfranco non è uno stinco di santo. Io sono stato portato a lui da Dell'Utri. L'elenco delle intercettazioni è lungo. Chi vuole a tutti i costi esaudire i bisogni di Arata è Micichè. Turano ad un certo punto si dire indietro il consulente della Lega che si vanta di avere fatto inserire il biometano nel contratto di governo Lega Movimento 5 Stelle grazie al sottosegretario Armando Sili parla con Lorenzo Cesa, capo del partito di Turano e con gli assessori Piero Bonnetto Tocordaro.